Fratelli e Radio Amici di Facebook e Instagram, buongiorno a tutti ragazzi, un saluto a tutti gli iscritti al canale, buon venerdì per chi ha già iniziato il weekend, comunque ci siamo, weekend calcistico perché stasera c'è l'Italia per l'amor di Dio, però il campionato è fermo, il campionato è fermo, insomma ne stiamo sentendo di ogni, anche cose che vengono fuori da testate giornalistiche importanti, io volevo fare oggi un video, volevo dedicare un video più che altro a due ragazzi, uno è Goran Pangev e l'altro ovviamente Froggy Ranocchia, però dopo la riunione di ieri sera, la famosa riunione al baretto nella quale poi la Nord doveva discutere sul da farsi, è venuto fuori appunto questo zang vattene sull'urlo della Nord, che è praticamente detto in maniera diversa, è quello che dico io da un anno e mezzo insomma, da quel famoso smantellamento del Suning Center, una squadra che vince il campionato, non esiste più, e il calcio lì non si può fare più nulla, insomma, e il calciomercato l'abbiamo visto, il punto di non ritorno, ho fatto un video 20 giorni fa, fine calciomercato, ho detto questo è il punto di non ritorno, questo calciomercato non è la prova, cioè l'anno scorso ti sei arrabbattato e cercato di investire quel poco che potevi investire perché poi avevi un bilancio di merda, il resto lo dovevi mettere nel bilancio, per averlo dimezzato quest'anno e comunque sei andato lì quasi per vincere ancora lo scudetto e hai vinto due coppe, quest'anno mi spiace ma io vi dico quello che ho detto, il calciomercato è proprio, tu hai fatto fatica l'ultimo giorno a dare a Cerbi, ok, al mister che batteva i pugni perché gli mancava il difensore, Bremer, Dybala, andati via, tutti quei nomi che si erano andati, è arrivato a Cerbi, quello è il punto di non ritorno, ma ho fatto un video o una live, non mi ricordo neanche, forse ho fatto una live sul calciomercato, comunque di 20 giorni fa e ho detto se non era per il ritorno di Lukaku dove lui è voluto tornare, perché se no l'Inter non sarebbe mai andato a prendere, come faceva? Lo vedi da questo no? E poi ovviamente io ho riproposto, ho condiviso anche sul mio profilo il post della Nord, e ho scritto The Times Over, grazie, perché comunque non finirò mai di ringraziarli, anche se hanno fatto tante cazzate, anche se nel corso degli anni mi hanno fatto incazzare, però che sia questo un monito per accelerare i tempi, ecco insomma, perché non è che si può, non si può mettere soldi, si può sempre sperare che Marotta o qualcuno faccia il miracolo, perché come abbiamo visto, e io lo sto dicendo da diversi giorni, e qui ci sono dentro anche degli sbagli a livello dirigenziale, perché Gosens, a me Gosens è un tarlo per me, Gosens, che io ci credevo, lo prendiamo a gennaio, poi non lo vedo in campo, lo avete sbagliato, Correa è un altro sbaglio, insomma sono soldi che sono stati investiti male, quindi ripeto, poi la colpa è sempre di tutti, ci mancherebbe, però sta roba qui, insomma, questo è un mercato da punto di non ritorno, per una squadra che, insomma, si erano fatti dei nomi, quei nomi, se hai una società forte alle spalle, li vai a prendere, Bremer, a 30 milioni, lo prendi subito, non aspetti poi che Cairo aspetta, hai capito, la Juve che ha vittuto quello, arriva con la cifra lì, quindi è lì, è lì, il segnale d'allarme estremo è quello, perché oltre a questo dovevi andare, quindi la nord si era già mossa prima, quest'estate con Skriniar non si tocca, perché aveva capito che ci poteva essere una malparata e adesso con questo Zang Vattine, dove ovviamente mi trovo d'accordo, ripeto, però io fino a Dakini per me veramente stavano lavorando bene, poi tutto quello che è successo, poi siamo tutti bravi a dire, io mi ricordo ancora, avevo fatto un video a sfogo quando Conte se ne andò, ero in macchina in via Bocconi, ancora mi ricordo, forse lo recupero, dove mi sfogai con tutti, con Zang, con Conte, perché poi alla fine chi la prendeva nel culo eravamo noi tifosi, avevamo visto questo giocattolino crescere, diventare vincente, poi Zang perché dicevo a marzo non ha venduto a 800 BC Partners, però anche lì ne parlavo anche prima con Manuel, siamo tutti bravi a dire, doveva vendere due anni fa, però magari, voglio dire, quello non era il prezzo, voi mettereste in vendita, casa vostra a un prezzo, arriva uno, vi offre tanto di meno, la vendete lo stesso, è chiaro che adesso un anno, per un anno ti è andata bene, nel senso che comunque hai portato a casa due trofei, sei andato lì per vincere un studetto, dove comunque la squadra era competitiva per vincere, l'abbiamo visto, quindi soprattutto anche poi per errori dei singoli, e per un calciomercato non fatto bene, anche l'anno scorso, sia a centrocampo, dove la coperta era corta, dove Sensi era Claudicante, Vidal, Bo, Vessino non giocava da un anno, l'unico era Gagliardini, e le ho dette anche l'anno scorso queste cose, quest'anno peggio, quest'anno peggio, e poi a maggior ragione mi sono incazzato l'altro giorno, perché non solo hai fatto un calciomercato, però non mi dispiace neanche vedere, perché io, secondo me Aslani è veramente forte, cioè vorrei vederlo in mezzo al campo un Aslani, bella no, abbiamo visto che ogni tanto punta, proviamolo, cioè almeno dico quello, quindi mi trovo estremamente d'accordo, adesso vedremo se con questo monito della curva si accelerano i tempi, insomma, anche perché poi, parliamoci chiaro, qui la situazione è quello che è, andasse bene sul campo, ma in realtà non va bene, e in realtà poi vedi anche che le mosse di mercato non si rivelano al momento vincenti, ecco, perché poi, vabbè Lukaku che spiega ha avuto l'infortunio, però per il resto, non lo so, mi continuo a vedere Gagliardini in campo, quando ho un, anche Mkhitaryan non lo tenevo in panchina all'inizio, quindi, boh, ci si lamentava della panchina, adesso i panchinari non giocano, quindi, vediamo cosa succederà per quanto riguarda questo discorso, e anche perché, dopo l'ultima live che l'avamo fatto sul canale, mi ricordo che Renato aveva detto, nel momento in cui vedremo che manca progettualità, che questi non ci capiscono un cazzo, comunque la nostra la diremo, evidentemente, la riunione di ieri ha portato a questo, quindi, vedremo gli sviluppi, adesso però mi sono dilungato su questa cosa perché era giusto, una specie di edizione straordinaria per quanto riguarda il pensiero della Nord, e ovviamente rimane la cosa che la Nord, ok, ma la Nord sicuramente andrà a parlare anche con i giocatori, e vediamo di darci una svegliata perché siamo solo a un mese dall'inizio del campionato, e c'è ancora tutta una stagione da giocare, quindi, questo è per quanto riguarda la società, ma i giocatori poi devono essere messi davanti alle proprie responsabilità, e il mister compreso con i suoi sbagli, e io ci metto anche la dirigenza, ci metto tutti, tutti. Detto questo, partiamo da Goran Pander, Goran Pander arriva all'Inter, e tutti ci ricordiamo, perché tanti si ricordano di quell'anno bellissimo, ovviamente quel derby del 4 a 0, io invece come derby, come derby più bello, perché quello mi fece incazzare il derby del 4 a 0, perché tu lì potevi affondare il colpo e potevi fargli un 6 a 0, e invece ci siamo fermati, io mi incazzai quel derby lì, ricordatevelo bene quel derby, su 4 a 0 ci siamo fermati, invece ricordo con molta più, anche perché è stato veramente tanto più emozionante, lì 4 a 0, quel 2 a 0, dove il 9 contro 11, con la punizione di Goran Pander, col rigore parato a Ronaldinho di Julio Cesar, lo ricorderò sempre con quella punizione alle foglie morte, gliel'ha fatta l'incrocio dei pali di Goran Pander, spettacolare. Quel derby lo ricordo anche particolarmente con tanta emozione, perché se vi ricordate all'epoca a Tele Lombardia, c'erano i collegamenti con lo stadio e c'erano Ruiu e Gianluca Rossi collegati, io riuscii a prendere la chiamata prima di uscire, perché andavamo a vedere la partita a casa di mio cugino quella sera, e gli dissi a Ruiu che era tutto gravarizzato, gli dissi guarda che magari per Fissio di Milano 0-2 non si sa mai insomma, e così finì, e quindi lo ricordo veramente, ovviamente a parte tutto l'anno fantastico di Goran Pander, a parte quel gol che mi fece, ero a Malaga, ero in un pub pieno di tedeschi, a vedere Bayern di Monaco e Inter e quel gol lì veramente, ci fece odiare a me, eravamo mia moglie gli unici interisti in quel pub, ci fece odiare da tutti i tedeschi, quindi un in bocca al lupo a Goran, grazie per tutto, e poi arriviamo a lui ragazzi, arriviamo a lui perché magari il video è un po' lungo ma era due role, Froggy, Froggy Lanocchia, te lo dico col cuore, non avrei mai pensato il 23 settembre del 2022 di dire queste parole verso di te, dopo tutte le incazzature dei primi anni, perché bisogna essere onesti, a me faceva incazzare, troppe gliene avrò dette, però poi io Froggy l'ho conosciuto, l'ho conosciuto durante una serata, erano lui e D'Ambrosio quella sera, era una serata organizzata a San Siro e da lì diciamo che lo rivalutai a livello di ragazzo insomma e poi devo dire che si è rifatto la grande sul campo, perché poi Froggy, due anni con Spalletti, due anni con Conte e un anno con Inzaghi, soprattutto l'anno scorso, semi rovesciata volante ci porta praticamente a vincere, ci dà quella spinta con l'Empoli per andare a vincere la Coppa Italia, ma un grande professionista, un professionista che si è trovato con una fascia di capitano troppo pesante per lui in un momento dove l'Inter veramente faceva pietà, io lì ricominciai ad abbonarmi, proprio in quegli anni là, quindi insomma gli anni di Mazzarri, dove non c'era la squadra, dove lui faceva una cazzata una presso all'altra, invece gli anni di Spalletti quando entrava la partita in corso, dava il suo apporto, gli anni di Conte non ne parliamo proprio, l'anno scorso Idem, quindi per tutti gli ultimi anni, per come è stato attaccato alla maglia, io posso solo che ringraziarlo Froggy, e mai avrei pensato anni fa di fare un video così, ho visto anche il video dove racconta insomma le sue emozioni e tutto quello che ha vissuto, cioè è stato anche emozionante, quindi io avevo già detto in bocca al lupo a Froggy per tutto, adesso anche lui lascia il calcio, ma lo ricordo molto, cioè ho veramente, porto un bel ricordo, cosa che non avrei mai pensato diversi anni fa, non so voi, ma sicuramente anche voi, quindi onora a te, onora a te perché alla fine ce l'hai fatta a far chiamare dai tifosi, ricordo anche lo striscione della Curva Nord, Orgoglio Curva Nord, Andrea Ranocchia, quindi in bocca al lupo per tutto, insomma goditi la famiglia adesso e ti fa sempre l'Inter, basta, questo era il video ragazzi, 10 minuti, quindi il mio pensiero non cambia, ribadisco, lo dico da un anno e mezzo, se non ce la fai più fatti da parte, ma il punto di non ritorno è questo calciomercato, è quello che stiamo vedendo, sono tante cose che non vanno bene, quindi vedremo, vedremo se si accelerano i tempi, ma soprattutto se arriva qualcuno che è disposto a comprare l'Inter e soprattutto se si smuove come si deve questa cosa dello stadio perché quello è un fattore veramente importante anche per il futuro acquirente e per chi vende. Condivisione dei video, iscrizione al canale, sempre forza Inter, mi raccomando, destinazione 7000, manca poco, fate passaparola e ci aggiungiamo per i prossimi video, ciao!